Buongiorno. Registrazione avviata. Grazie segretario, buongiorno, buongiorno colleghi, buongiorno signor Colombo. Oggi, venti, diciannove febbraio, diamo inizio alla saluta della quarta commissione consigliare. Segretario, la prego di chiamare l'appello. Sì, Presidente, come da sua disposizione, cancilla. Buongiorno presente. Buongiorno a tutti, presenti. Buongiorno. Orlando. Buongiorno, presente. Buongiorno, Randazzo. Presente. Inzerillo. Presente. Presidente, 5 su 5. Perfetto, verificato il quorum strutturale, dichiaro aperto la seduta. Segretario, non abbiamo verbali da approvare, verbali di seduta precedente. No. No, no, niente. Allora, volevo condividere con i colleghi l'invito che le ho chiesto di fare per quanto riguarda l'assessore mattina. A seguito, ovviamente, di interlocuzioni che abbiamo avuto noi tutti per le vie brevi, ho ritenuto opportuno chiedere all'assessore mattina di partecipare ad una seduta di commissione martedì alle 9.30 della settimana prossima. argomento, diciamo, principe è quello dei PUC, capire ovviamente cosa si sta facendo. Noi abbiamo incontrato l'assessore mattina, abbiamo incontrato l'assessore pian piano, che sono stati gli unici due assessori che si sono occupati dei PUC e che hanno presentato progetti a tal proposito. e siccome ad oggi, il 19 febbraio, non abbiamo notizie di far partire questi progetti e dalle ultime riunioni sapevamo che dovevano comunque essere attivati questi progetti i primi di gennaio, volevamo ovviamente comprendere dalla voce dell'assessore quali sono stati i motivi di questa battuta di arresto e capire cosa si intende e come si procederà in tal proposito. Quindi, martedì abbiamo l'assessore mattina, poi, segretario, abbiamo altri inviti in commissione per i prossimi giorni? No, Presidente. Nessun invito? Fissate nessuno. Perfetto. Allora, segretario, io ho incontrato l'altro giorno il vice sindaco che era piacevolmente, aveva accolto di buon grado questa nostra iniziativa di condividere con lui queste attività che riguardano ovviamente la cura del verde e la riqualificazione urbana. E a lui è piaciuta l'idea di quella commissione che abbiamo fatto proprio là su Via Principe di Granatelli. Il vice sindaco mi chiedeva, ma che ne pensate se facciamo un salto allo zen a rivedere anche quell'altra area che stanno riqualificando? Quindi la invito a mettersi in contatto con la dottoressa Ardizzone, che è la segretaria dell'assessore del vice sindaco, per predisporre un appuntamento per la settimana prossima. Ci sono esigenze particolari di qualche collega? Prima che il segretario ti metta in contatto con la dottoressa Ardizzone. Non risponde nessuno, quindi deduco che non ci siano esigenze particolari. Gianluca, per la verità non ho sentito la domanda. Me la ripeti? No, chiedevo se ci sono esigenze particolari da parte di qualcuno di voi per fissare l'appuntamento con la dottoressa Ardizzone per andare a fare questo sopralluogo allo zen insieme al vice sindaco. No, no, esigenze particolari, a parte ovviamente che abbiamo il consiglio anche lunedì, vero? Sì, quindi questa è un'esigenza di tutti noi. Eventualmente, se mi posso permettere, se mai fosse possibile, se dovesse individuarsi il venerdì come giorno, chiederei di poterlo fare al secondo appello alle 10 e mezzo. Quindi se si dovesse individuare il venerdì, sarà alle 10 e 30 anziché la 9 e mezzo. Escolta Italia mi organizzo e funziona vostra. Poi non so, ovviamente gli altri colleghi magari se hanno esigenze particolari. Presidente, se hai sentito qualcosa, ti va bene. Ho capito Carlo. Non so se l'avete sentito, io mi l'ho proposto, per me era solo possibile verdi. E va bene, come dice la chiesa Orlando, in seconda convocazione per torno a me. Va bene, Giovanni, hai sentito quali sono le esigenze dei colleghi. Vedi ovviamente di organizzarti con la dottoressa Ardizzone e poi ci puoi sapere qual è il tuo nome. E eventualmente, ripeto, per venerdì prossimo rimane invariata la convocazione a 9 e 30 e 10 e 30, considerato che però, detto tra di noi altri, ci vedremo alle 10 e 30 in seconda convocazione. Va bene, dico ovviamente dobbiamo capire pure gli impegni del vice sindaco. Certo, certo. Perché ti organizzati tu per concertare questo appuntamento. Ci sono, nell'ambito delle comunicazioni, ci sono interventi da parte dei colleghi? Nessun intervento. Ce lo ricordiamo, Gianluca, nell'ambito della programmazione? Ce lo ricordiamo sempre il tema che dovrebbe essere aggiornato, dello spazzamento? Sì, sì. Infatti, ma noi non avevamo chiesto l'appuntamento con i vertici di Rappi che non sono venuti. Lo rifacciamo questo appuntamento per mercoledì mattina, Giovanni. Perché c'è un'urgenza, mi pare, diciamo, rispetto all'appuntamento. O lunedì o mercoledì, o lunedì o mercoledì mattina. Se possiamo invitare di nuovo Rappi, evidenziamo il fatto che... Scusi, Presidente, vi siete accavallati nel parlare e quindi non è arrivato niente a me. Ho interrotto io la collega, in realtà, chiedo scusa. Volevo chiederti se possiamo rinvitare i vertici di Rappi proprio per parlare del problema dello spazzamento a seguito di quella attività che dovrebbe fare l'AMAT di concerto con l'ufficio Traffico. Con Traffico. Sì. Però noi desideriamo avere un appuntamento in questo momento solo e esclusivamente con i vertici di Rappi al fine di parlare dello spazzamento meccanizzato, di un eventuale spazzamento manuale, ma per affrontare anche i problemi che riguardano ovviamente la città. Perché, diciamo, devo dirvi con molta sincerità, io in questo momento non comprendo questo stato di agitazione. Perché ho partecipato personalmente ad una riunione insieme al Sindaco e ho saputo, vedete, c'è stato un'altra, dove il Sindaco ha dato le stesse identiche rassicurazioni a Rappi su tutta una serie di percorsi economici, dove la Rapp aveva qualche timore, ma anche in presenza del Regione Generale sono state date tutte le rassicurazioni del caso, quindi io non comprendo perché ad oggi ancora vi sia questo stato di agitazione. Quindi vorrei capire dalla voce del Presidente o del Direttore Generale quali sono i motivi perché si continua comunque a mantenere questa agitazione e quindi questa mancanza di servizi, che devo dirvi che ci sono zone della città dove i rifiuti sono diventate le vere e proprie montagne di rifiuti. Sono veramente spaventosi alla vista. Sì, in generale è una situazione veramente insostenibile. Se possiamo fare questo invito per lunedì o per mercoledì. Stiamo parlando di lunedì 22 e martedì 23? No, lunedì 22 e mercoledì, scusami, mercoledì 24. Perché martedì abbiamo... Siamo impegnati. Abbiamo, sì. Anche se c'è una comunicazione del Presidente Rapp che è dei sindacati che lo stato di agitazione è stato interrotto per consentire la pulizia della città. E magari conoscere, diciamo, il piano di recupero dello spazzamento. Sì, sì, era soltanto una comunicazione. Visto che non conosciamo quello regolare... Era un aggiornamento sul... Sì, sì, ho capito, ma non mi riferisco. Scusate, abbiamo intendo individuato il percorso per la settimana prossima. Abbiamo stabilito, diciamo, un calendario di appuntamenti. Io adesso chiederei alla consigliera Cancilla, nonché vicepresidente della Commissione, di dare la lettura degli emendamenti che riguardano questo famosissimo regolamento sul decentramento. Argomento, ovviamente, che è ben noto a tutti noi, che si sta affrontando. Presidente, scusami, mi è caduta la linea, potete riempilogare il programma per la prossima settimana, perché mi è caduta la richiesta. Sì, velocemente. Sì, velocemente. Allora, il programma per la settimana prossima è questo. Abbiamo un appuntamento già fissato con l'assessore mattina martedì. Lunedì o mercoledì chiediamo al RAF di partecipare alla Commissione e nell'Emore il segretario si metterà in contatto con la segretaria del vice sindaco per fissare un appuntamento o un sopralluogo insieme allo stesso o allo Zenne, nell'area che stanno riqualificando. Vabbè, grazie, grazie. Grazie a te. Quindi, consigliera Cancilla, è già nelle condizioni di poter leggere gli emendamenti che riguardano questo regolamento? Presidente, allora, io ho preso il file. Io direi, siccome hanno inviato ieri stesso il regolamento completo dove sono anche inseriti gli emendamenti, potremmo invece di leggere singolarmente gli emendamenti dare una lettura più completa e leggo il testo. Sì, prego. Allora, innanzitutto, regolamento per il decentramento coordinato con i suggerimenti di variazione illustrati dai presidenti di circoscrizione nel corso della seduta consigliare del 18 febbraio 2021. Allora, il regolamento costa di otto titoli e c'è una leggenda che dice, va bene, io intanto, va bene, do direttamente lettura. Titolo 1, disposizioni generali. Articolo 1, circoscrizioni di decentramento. Volete che leggo tutto o leggo solo gli articoli con le parti inserite? A seconda degli articoli, leggo tutto? Va bene, sì, va bene. Il territorio del comune di Palermo si suddivide in otto circoscrizioni in cui la denominazione e le cui delimitazioni territoriali sono descritte dall'allegato A, di cui è la delibera numero 300 del 6 dicembre 1995. Le modifiche del numero e delle delimitazioni territoriali delle circoscrizioni sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. L'iniziativa in ordine alle modifiche di cui è il comma 2 compete al sindaco, ad un terzo dei consiglieri comunali, a ciascun consiglio di circoscrizione interessato per territorio, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta di un numero di consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei componenti. In caso di iniziativa del sindaco o dei consiglieri comunali è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dei consigli di circoscrizione interessati, reso entro il termine di cui all'articolo 19. La proposta di deliberazione deve essere scritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sua ricezione e deve essere esaminata e trattata entro i successivi 30 giorni. Le circoscrizioni hanno sede nei locali individuati dall'amministrazione comunale. Qui non ci sono modifiche all'articolo 1. Articolo 2. Organi delle circoscrizioni. Sono organi istituzionali della circoscrizione il Consiglio e il Presidente. Articolo 3. Principi di organizzazione. In conformità ai principi e alla normativa che regola l'azione amministrativa, l'attività delle circoscrizioni è informata la netta separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale. Comma 2. A tal fine, e qua c'è la prima modifica, a tal fine, nell'ambito delle funzioni attribuite alla circoscrizione, il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, programmazione, promozione, controllo e adotta gli atti presupposti e propedeutici alle attività di indirizzo politico decentrate. Ora c'è una parte evidenziata in giallo e tra parentesi è scritto sopprimere, quindi suppongo che quello che sto leggendo adesso vada tolto. Competa agli uffici amministrativi della circoscrizione, sensi del regolamento comunale, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tutta l'attività di gestione di competenza della circoscrizione. Quindi questa parte, competa agli uffici amministrativi della circoscrizione, sensi del regolamento comunale, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tutta l'attività di gestione di competenza di circoscrizione, c'è scritto tra parentesi sopprimere. Poi, articolo 4, funzioni delegate. Le circoscrizioni gestiscono servizi e attività in materia delegate del comune. Questa, si è scritto sostituire con i consigli di circoscrizione, programmano con efficacia vincolante servizi e attività in materia delegate dal comune. Comma 2. Gli organi centrali dell'amministrazione comunale conservano sulle attività decentrate i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo e previa di fida ad ottemperare, possono intervenire nei casi di inerzia, inadempienza e violazione di legge, nonché di inosservanza ai programmi di massima e criteri direttivi fissati dal comune. Tutta questa parte qui che ho letto, gli organi centrali dell'amministrazione comunale, deve essere soppresso, è proposto ovviamente, è un'indicazione. Quindi rileggo la parte da sopprimere. Gli organi centrali dell'amministrazione comunale conservano sulle attività decentrate i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo. E previa di fida ad ottemperare, possono intervenire nei casi di inersi, inadempienza e violazione di legge, nonché di inosservanza ai programmi di massima e dai criteri direttivi fissati dal comune. Poi c'è il comma 3 che sto leggendo. Quindi le funzioni deliberative in materia delegata sono esercitate secondo i criteri, i limiti e le modalità contenute nei provvedimenti di delega, va sostituito con le funzioni deliberative in materia delegata, sono esercitate nei limiti e secondo le modalità contenute nell'articolo 7. Posso andare avanti? Vado? Sì, sì, io ti seguo. Sì, sì. Ok. Articolo 5, delega per progetti. Qui non ci sono frasi evidenziate, quindi. Oltre alla delega sulle materie di cui ha il precedente articolo può essere conferite le circoscrizioni, la delega per l'attuazione di un progetto o di un programma. La deliberazione di delega deve indicare il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno ottenersi le circoscrizioni nell'esercizio della delega specifica stessa. Articolo 6, competenze amministrative delle circoscrizioni. Le circoscrizioni hanno competenza sui procedimenti amministrativi relativi ai seguenti servizi. E c'è un elenco puntato, quindi rilascio e ritiro tesserini venatori, rilascio e ritiro tesserini raccolta funghi epigei. Acquisizione, istanze bonus, sociale, agevolazioni, tariffe, forniture, energie elettriche e gas naturale. Qui è scritto sostituire con acquisizione, istanze bonus, sociale solo per disagio fisico. Quindi è una precisazione. Scusate un secondo, vorrei vedere una cosa. Quindi quello in verde è aggiuntivo, è assegnato in verde. Poi acquisizione, istruttoria, liquidazione e pagamento, istanze e benefici economici, assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori ed assegno maternità. Acquisizione, istruttoria, liquidazione e pagamento, istanze e concessione, contributo a disagio alloggiativo. Acquisizione, istanze e assistenza economica straordinaria. Acquisizione, istanze e concessione, contributo integrativo all'affitto. Acquisizione, istanze e bonus regionale figlio. Acquisizione, istanze e bonus socio-sanitario. Poi qui c'è una parte che c'è scritto sopprimere, quindi sopprimere, acquisizione, istanze e reddito di inclusione, RAI. Poi continuo, rilascio, modelli per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, acquisizione, istanze etari e rilascio modulistica, supporto burocratico alle attività del Consiglio della Circoscrizione, articolato in assistenza alle sedute di Consiglio della Circoscrizione, supporto alle commissioni consigliari. e poi c'è un altro punto che è da aggiungere come punto numero 13, rilascio pass disabili ed acquisizione richieste stalli disabili. Quindi per una competenza in più. Poi, dalle circoscrizioni dipendono le postazioni decentrate che hanno competenza delegate in ordine a rilascio carte d'identità, rilascio pass ZTL e PIN per accesso ai servizi comunali online, autenticazioni delle sottoscrizioni, rilascio carte d'identità a domicilio, quindi servizio domiciliare, rilascio certificazioni anagrafiche, passaggi di proprietà beni, mobili registrati, quindi autenticazione degli atti di alienazione e costituzione dei diritti di garanzia di beni mobili registrati, formazione atti di nascita, formazione atti di matrimonio, formazione atti di morte, annotazione a margine dell'atto di Stato civile, di provvedimenti di tutela e interdizione, relative registri in uso, richiesta cambio di abitazione per intero nucleo, per scissione del nucleo, per aggregazione ad altro nucleo familiare dei residenti nel territorio comunale, rilascio certificati di Stato civile e plurilingue relativi all'anno in corso, accordi extra giudiziali di separazione e divorzi, essenzio dell'articolo 12 della legge numero 162 del 2014, l'acquisizione delle istanze relative ai servizi demografici e di Stato civile non è soggetto a territorialità. Le circoscrizioni e le postazioni decentrate dipendenti territorialmente gestiscono tutte le fasi o parte delle stesse dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi di cui è come 1 e 2, di concerto con gli uffici competenti per materie nei limiti delle risorse finanziarie che verranno messe a disposizione per l'erogazione dei predetti servizi, per la gestione dei servizi di cui sopra dovranno essere assegnate adeguante strutture e risorse umane provenienti dagli uffici che hanno espletato i servizi a livello centrale, per la corretta ed efficiente gestione dei predetti servizi. Passo alla lettura dell'articolo 7, servizi di base. Già premetto che al Comune c'è una sostituzione. Allora, precedentemente c'è scritto i consigli circoscrizionali attuano una programmazione annuale vincolante per i servizi di seguito indicati assicurando un coinvolgimento di comitati ed utenti, operatori, cittadini e associazioni. Questa parte va sostituita con i consigli circoscrizionali esercitano attività vincolante di indirizzo politico, programmazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e del PEG nei servizi di seguito elencati. A. Servizi sociali, servizi domiciliari, servizi residenziali ed esclusione del convenzionamento con le strutture residenziali. Servizi di integrazione economica, assistenza economica ordinaria, straordinaria e temporanea, assistenza economica invalidi sul lavoro, invalidi di guerra, minori riconosciuti dalla sola madre, famiglie di detenuti ed ex detenuti, famiglie affidatarie, contributo all'oggettivo, assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori, assegno maternità, istruttoria delle stanze per l'ammissione al regime di compensazione, per la fornitura di energia elettrica e gas, eccetera. Servizi per il reinserimento sociale di persone socialmente svantaggiate, servizio sociale professionale territoriale, segretariato sociale, centri sociali e diurni, semi convicto, trasporto agevolato delle categorie privilegiate di cittadini che resiedono nelle circoscrizioni, servizi in favore di soggetti diversamente abili. Poi abbiamo anche i servizi scolastici ed educativi, in particolare distribuzioni buone libro a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado statali e paritari residenti del comune di Palermo, contributi relativi al diritto allo studio, quindi le borse di studio e la fornitura di libri di testo, contrasto alla dispersione scolastica. Ancora abbiamo il punto C, attività e servizi culturali, quindi nello specifico, iniziative di carattere artistico e o-culturale, organizzazione di eventi culturali, iniziative legate alle tradizioni, servizi decentrati di biblioteca, emeroteca, videoteca, cineteca e ludoteca. Punto D, attività e servizi sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale, quindi in particolare abbiamo corsi di avviamento allo sport per i residenti nelle circoscrizioni, corsi di educazione motoria per i residenti nelle circoscrizioni, organizzazione di manifestazioni sportive nel territorio della circoscrizione, iniziative per la fruzione degli impianti sportivi per le scuole e per i soggetti svantaggiati, l'intesa con i settori interessati in conformità ai vigenti regolamenti comunali in materia. Allora, poi c'è il comma 2, c'è una parte che ora leggo che dovrebbe teoricamente essere sostituita, ovviamente questo se è il consiglio deciderà di salutare i signori. Allora, posso continuare? Sì Roberta, io ti seguo. Ok, quindi la parte originale del testo è in sede di predisposizione di bilancio dovranno essere inserite i doni risorse economico-finanziarie per l'esploitamento dei servizi sopraindicati in apposi capitoli di bilancio assegnati alle circoscrizioni che in sinergia con i settori servizi interessati cureranno i procedimenti amministrativi. Ora, la proposta da parte dei presidenti delle circoscrizioni, che credo sia appunto unanime, è la Giunta Comunale di concerto con i presidenti di circoscrizione individua nello schema di bilancio le risorse finanziarie per esploitamento dei servizi riportati ai commi precedenti. La distribuzione delle risorse finanziarie assegnate ad ogni circoscrizione terrà conto di una quota fissa per circoscrizione pari al 30% del totale da ripartire ed altre due quote legate a fattori variabili. Quindi una 30% è per tutte. Poi abbiamo il 30% in relazione alla densità abitativa e il 40% in base all'estensione di ogni circoscrizione, così come rilevato dal competente ufficio statistico. La gestione di tutte le fasi procedimentali relative ai capitoli di spesa per l'espletamento dei suddetti servizi rimane assegnato ai settori competenti che cureranno pertanto impegni di spesa, espletamento di eventuali procedure di affidamento barra gare, liquidazioni e pagamenti e rendicontazione. Infine c'è il comma 3 che comunque loro propongono di sopprimere e cioè la gestione dei servizi di base subordinata alla reale disponibilità di strutture e professionalità adeguate. Continuo con la lettura. Roberta, scusami, non rileggi questo che propongono di sopprimere. Questo è quello che hanno detto ieri in Consiglio Comunale. Sì, 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 mi ricordo. La parte centrale del documento, sì. Allora, ti leggo la parte che loro propongono, ok? Assolutamente, sì. Ok, la giunta comunale di concerto con i presidenti di circoscrizione individua nello schema di bilancio le risorse finanziarie per rispettamento dei servizi riportati ai combi precedenti. La distribuzione delle risorse finanziarie assegnate ad ogni circoscrizione terrà conto di una quota fissa per circoscrizione per il 30% del totale da ripartire ed altre due quote legate a fattori variabili. Il 30% in relazione alla densità abitativa e il 40% in base all'estensione di ogni circoscrizione così come rilevato dal competente ufficio statistico. La gestione di tutte le fasi procedimentali relative ai capitoli di spesa per rispettamento dei suddetti servizi rimane assegnata ai settori competenti che cureranno pertanto impegni di spesa spettamento di eventuali procedure di affidamento gare liquidazioni e pagamenti e rendicontazione. Sì, infatti è molto tecnico sì, è il cuore un po' di tutto. Grazie Roberta Vado avanti allora Allora, titolo 2 la partecipazione articolo 8 circoscrizione e partecipazione già brannuncio questo pezzettino non ci sono diciamo parti aggiuntive Allora, comma 1 la circoscrizione riconosce nei cittadini competenze e conoscenze che se valorizzate possono contribuire in modo determinante a costruire e ricostruire la comunità di riferimento avendo un dialogo costruttivo e partecipativo sulle tematiche annesse ai servizi di base diventando pertanto spazi partecipativi che offrono ai cittadini la possibilità di vivere da protagonisti il proprio territorio la circoscrizione assicura pertanto nell'ambito delle attività di competenza la massima conoscibilità dell'opportunità di collaborazione delle proposte pervenute delle decisioni assunte dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate riconoscendo nella partecipazione lo strumento principale per garantire il coinvolgimento dei cittadini attivi Ora c'è aggiungere articolo 8 bis quindi tutta una parte segnata in giallo dovrebbe essere tutta nuova quindi Comitati il titolo è Comitati educativi di circoscrizione Allora sono istituiti presso le circoscrizioni i comitati educativi di circoscrizione quali istituti di partecipazione che convolgono soggetti istituzionali scolastici ed altro del privato sociale e singoli cittadini con funzione consultiva e con capacità di mettere a sistema tutte le risorse economiche strutturali ed umane presenti nel territorio I comitati educativi di circoscrizione assumono la responsabilità di elaborare proposte in funzione della visione futura della circoscrizione collegandolo alla visione barra valori della città I comitati educativi di circoscrizione hanno una loro autonomia e si configurano quali organismi apartitici senza scopo di lucro non svolgendo alcune attività di natura commerciale in quanto fondate unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini ai quali l'immministrazione comunale e le istituzioni circoscrizionali riconoscono il ruolo primario di promozione della partecipazione democratica Il coordinamento dei comitati educativi è affidato ai presidenti di circoscrizione che almeno due volte l'anno si incontreranno con gli assessorati alla cittadinanza solidale alla scuola alle culture alla partecipazione e al decoro urbano al garante per l'infanzia e l'adolescenza al garante per le persone con disabilità per elaborare linee unitarie di sviluppo per la verifica dei risultati raggiunti per la promozione dei percorsi di partecipazione e sviluppo locale volete che rilega qualcosa va bene così vado avanti sì per me puoi andare avanti ok articolo 9 istanze e petizioni i cittadini singoli ed associati partecipano alla programmazione dell'attività della propria circoscrizione finché le stesse siano concretamente attuate e gestite in termini di efficienza efficace ed economicità per la tutela degli interessi collettivi della comunità circoscrizionale possono essere rivolte alla circoscrizione istanze e petizioni per esporre comune necessità l'istanza presentata con finità diverse rispetto alla mera adozione di provvedimenti amministrativi può essere presentata presso l'ufficio di segreteria del presidente la stessa deve contenere il recapito e l'indirizzo email del soggetto a cui verrà inoltrata la risposta dalla circoscrizione nel termine massimo di 30 giorni la petizione rivolta in forma scritta deve essere sottoscritta secondo la normativa vigente da almeno 300 cittadini residenti o domiciliati nel territorio circoscrizionale all'atto del deposito devono essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti la petizione e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla petizione la petizione deve essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio circoscrizionale è discussa entro 60 giorni dalla presentazione in caso di diniego lo stesso deve essere motivato dall'esito della discussione vengono informati in tempi brevi tre rappresentanti dei proponenti la petizione qua non ci sono modifiche continuo a leggere comunque tutta questa parte non vedo nessun cambiamento esattamente quindi ero arrivata un attimo solo articolo 10 giusto proposta di iniziativa popolare questo l'ho letto per la tutela degli interessi collettivi della comunità circoscrizionale possono essere rivolte alla circoscrizione proposte per promuovere interventi a tutela della collettività la proposta rivolta in forma scritta alla circoscrizione deve essere sottoscritta secondo la normativa vigente da almeno 600 cittadini residenti o domiciliati nel territorio circoscrizionale all'atto del deposito devono essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei firmatari della proposta e l'indirizzo di posto elettronico certificato al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla proposta la proposta deve essere scritta all'ordine del giorno del consiglio circoscrizionale discussa entro 60 giorni della sua presentazione in caso di deniego lo stesso deve essere motivato dall'esito dell'escussione vengono informati in tempi brevi tre rappresentanti dei firmatari della proposta poi articolo 11 consultazioni popolari per acquisire maggiori conoscenze sui bisogni sugli orientamenti che maturano tra i residenti tra coloro che studiano e lavorano nell'ambito della circoscrizione o tra gli utenti dei servizi il consiglio circoscrizionale può effettuare forme di consultazione popolare anche limitate a specifici settori sociali a mezzo di questionari sondaggi d'opinione verifica campione per quanto attiene i sondaggi d'opinione gli stessi possono essere effettuati anche con l'ausilio di appositi portali che si prestino alla trattazione di svariate aree tematiche per l'implementazione dei sondaggi d'opinione attraverso i suddetti portali la circoscrizione è supportata sotto il profilo tecnico-amministrativo da responsabile della partecipazione nonché dagli uffici preposti alla tematica per il coordinamento e la gestione la consultazione può essere effettuata nei confronti a di particolare fasce di cittadini individuati in base alla classità esercitata o alla condizione non lavorativa alle categorie professionali agli utenti dei servizi eccetera in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue b di un campione limitato individuato mediante sorteggio dei schedari delle liste archivi informatici di cui la circoscrizione dispone ho individuato ad apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi sulle risultanze di tali consultazioni il presidente di circoscrizione promuove un dibattito in consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito i risultati della consultazione sono pubblicati sul sito istituzionale del comune all'interno dei portali approntati dall'amministrazione comunale articolo numero 12 conferenze di circoscrizione allora per favorire momenti di incontro di crescita sociale e culturale della comunità circoscrizionale il consiglio di circoscrizione può promuovere conferenze e dibattiti su specifiche tematiche di interesse generale invitando a parteciparvi cittadini esperti associazioni e organizzazioni di categorie interessate il consiglio definisce l'argomento della conferenza il termine dentro il quale la stessa avrà luogo dandone tempestivo avviso mediante donne e forme di pubblicità la conferenza di circoscrizione preseduta al presidente in caso di assenza al vicepresidente la partecipazione alla conferenza è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione al quale è assicurata piena libertà d'espressione di intervento e di proposta secondo l'ordine del lavoro è approvato all'inizio dell'assemblea su proposta del presidente le conclusioni della conferenza sono espresse con un documento che riassume parerie alle proposte avanzate dagli intervenuti pubblicato sul sito istituzionale del comune all'interno dei portali di cui è l'articolo precedente la conferenza può essere attivata anche all'interno del portale di partecipazione la circoscrizione è supportata sotto il profilo tecnico-amministrativo dal responsabile della partecipazione nonché dagli uffici preposti alla tematica per il coordinamento e la gestione del forum scusate un attimo articolo 13 le consulte il consiglio di circoscrizione può istituire consulte tematiche in linee con il regolamento quadro per l'istituzione delle consulte approvato con deliberazione va bene le consulte operano come strumento di partecipazione dei cittadini al governo della comunità locale e nello specifico rappresentano sedi di confronto discussione proposta su temi specifici nonché svolgono funzioni di impulso e sostegno all'attività dei consigli di circoscrizione le consulte tematiche possono essere istituite per la trattazione di specifiche problematiche e per la promozione di attività concernenti i settori di interesse generale della circoscrizione le consulte istituite al consiglio comunale collaborano con la circoscrizione al fine del raggiungimento di obiettivi condivisi e partecipati i consigli circoscrizionali sono tenuti a consultare le consulte territoriali istituite dal consiglio comunale prima dell'adozione degli atti deliberativi di loro competenza il presidente di circoscrizione è chiamato a presiedere la prima seduta delle consulte territoriali del territorio di riferimento ed è mandata anche al presidente di circoscrizione la possibilità di convocare riunioni della consulta territoriale del territorio di riferimento le consulte territoriali sono tenute a inviare la convocazione anche al presidente della circoscrizione su cui ricade l'ambito della consulta allora titolo 3 quindi il terzo quindi il consiglio di circoscrizione articolo 14 elettorato attivo e passivo sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio di circoscrizione le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del consigliere di circoscrizione sono quelle previste dalla normativa vigente articolo 15 adempimenti della prima adunanza la prima seduta del consiglio circoscrizionale convocata dal presidente uscente deve svolgersi entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti del preseduto al presidente neoletto nella prima seduta si deve procedere preliminarmente al giuramento alla convalida degli eletti previa verifica della insussistenza di caso di incompatibilità o di ineleggibilità come previsto dall'ordine vigente dopo la convalida degli eletti il giurimento il presidente eletto potrà presiedere il consiglio circoscrizionale che procede all'elezione del vicepresidente nei termini secondo le modalità previste dal presente regolamento articolo 16 decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere di circoscrizione la decadenza della carica di consigliere circoscrizionale viene dichiarata con deliberazione del consiglio circoscrizionale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente per la decadenza dalla carica di consigliere comunale nel caso in cui il consigliere senza giustificato motivo non intervenga a numero 6 sedute consecutive il consiglio anche su richieste di un singolo consigliere attiva la procedura per la dichiarazione di decadenza la decadenza potrà essere dichiarata dal consiglio dopo aver sentito un interessato a cui dovrà essere comunque dato un preavviso di almeno 10 giorni le dimissioni della carica di consigliere circoscrizionale sono presentate in forma scritta e depositate presso l'ufficio di segreteria della circoscrizione esse sono irrevocabili definitiva e non necessitano di presa d'atto articolo 7 surroga dei consiglieri in caso di mancata 7 7 robì scusami articolo 17 no no figura ma ci mancherebbe Roberta surroga dei decadenza no perché sta volendo che qua c'è una piccola modifica ora appena arrivo allora intanto questo è scritto così in caso di mancata convalida dell'eletto la carica di consigliere circoscrizionale ovvero nell'ipotesi di dimissioni decadenza morte di un consigliere di circoscrizione il consiglio provvede previ esami previ esami dei requisiti di elegibilità nonché di eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità relativa convalida alla sua sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue l'ultimo eletto la surroga deve avvenire nella prima seduta utile successiva al verificarsi della causa di cessazione cessazione anticipata del mandato comunque entro 20 giorni dalla stessa ora il comma 3 c'è una modifica una sostituzione intanto c'è scritto il consiglio circoscrizionale è obbligato a dichiarare la decadenza del consigliere che non si è presentato per prestare giuramento sostituire nella seconda seduta utile con nelle prime due sedute senza giustificato motivo quindi alla terza seduta è altrettanto obbligato a procedere alla surroga convalida del successivo candidato non eletto nella medesima lista del consigliere del caduto quindi sostituire nella seconda seduta utile con nelle prime due sedute senza giustificato motivo finisco di reggere l'articolo il consiglio circoscrizionale non può validamente svolgere alcuna attività deliberativa ordinaria se non è costituito nel suo plenum articolo 18 composizione e funzionamento dei consigli circoscrizionali allora il consiglio di circoscrizione partecipa al governo della città esprimendo in piena autonomia la volontà dei cittadini della circoscrizione esso assicura la partecipazione democratica degli stessi allo sviluppo della comunità locale attraverso una capillare attività di mediazione ascolto e facendosi portavoce delle esigenze rappresentate dalla popolazione residente nel territorio circoscrizionale il consiglio di circoscrizione adotta tutti gli atti di amministrazione di sua competenza come individuati nel presente regolamento e si avvale della struttura burocratica assegnata dall'amministrazione per la gestione delle risorse di cui dispone il numero dei consiglieri di ogni circoscrizione è fissato in 10 compreso il presidente del consiglio i consigli circoscrizionali sono eletti contestualmente al consiglio comunale e durano in carica per tutto il mandato del consiglio comunale salvo il caso di sciogliamento anticipato di quest'ultimo in tale ultima circostanza il consiglio circoscrizionale durerà in carica fino alla rielezione del consiglio comunale il consiglio circoscrizionale si riunisce almeno una volta al mese ciascun consiglio di circoscrizione per i lavori d'aula applica il presente regolamento e ciò che non viene espressamente previsto ove compatibile il regolamento del consiglio comunale la convocazione del consiglio di circoscrizione spetta ad eccezione della prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti che viene effettuata dal presidente uscente al presidente della circoscrizione al sindaco o assessore delegato qualora ne ricorra l'esigenza la convocazione è fatta mediante notifiche online dell'avviso contenente l'ordine del giorno e l'elenco degli affari da trattare almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta o in caso d'urgenza almeno 24 ore prima di ciascun seduta dell'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza con ogni mezzo ritenuto utile e con pubblicazione all'albopretorio online del comune allora al commotto c'è un da aggiungere qualcosa ora intanto ve lo leggo quindi il presidente formula l'ordine del giorno del consiglio che deve essere trasmesso per conoscenza al sindaco all'assessore delegato al presidente del consiglio idio comunale e al dirigente competente aggiungere a tutti questi e al segretario generale lo stesso altresì l'obbligo se gli argomenti riguardano materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni della circoscrizione di convocare il consiglio entro 15 giorni dalla richiesta formulata da un terzo dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti le sedute del consiglio circoscrizionale sono pubbliche sono segrete solo quelle in cui si discute in merito alla qualità o alla moralità delle persone e quelle per le quali vi sia stata apposita determinazione del consiglio assunta maggioranza dei suoi componenti possono partecipare alle sedute del consiglio il sindaco gli assessori e su richiesta del consiglio medesime consiglieri comunali associazioni enti o soggetti portatori di interessi generali nonché singoli cittadini che per la loro particolare esperienza possono dare un contributo ai lavori del consiglio le sedute del consiglio circoscrizionale sono presedute del presidente o in caso di assenza impedimento dal vicepresidente e in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano per numero di preferenze individuali per ogni seduta del consiglio circoscrizionale deve essere dato apposito verbale a cura del segretario del consiglio che è un dipendente comunale incaricato dal dirigente i verbali possono i verbali vanno approvati entro la sessione successiva e la corresponsione del gettone è subordinata all'attestazione dell'effettiva presenza dei consigliari da parte del segretario della seduta il consiglio di circoscrizione viene sciolto nei casi previsti dalle normative vigenti i consiglieri si costituiscono in gruppi consigliari entro 15 giorni della prima seduta del consiglio circoscrizionale dovranno essere comunicate la costituzione la denominazione la composizione dei gruppi ogni gruppo deve essere formato da un numero minimo di due consigliari i consigliari che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto entro 15 giorni della prima seduta del consiglio ciascun gruppo consigliare si riunisce per l'elezione di un capogruppo in essenza di tali adempimenti è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e nel caso di gruppo misto il consigliere è più anziano per numero di preferenze individuali ora c'è la proposta di aggiungere un altro comma comma 16 il consiglio di circoscrizione si riunisce presso l'aula consigliare tranne in casi eccezionali preventivamente comunicati al segretario generale allora un attimo il consiglio lo rileggio scusami questo si deve aggiungere il consiglio di circoscrizione si riunisce presso l'aula consigliare tranne in casi eccezionali preventivamente comunicati al segretario generale va bene si si ok le esterne diciamo ok scusate un secondo vediamo articolo 19 funzioni consultive vado avanti allora nell'esercizio della funzione consultiva il consiglio di circoscrizione esprime pareri obbligatorie e non vincolanti da esercitare entro i termini con le modalità stabilite dal presente articolo sulle seguenze materie schema di bilancio preventivo annuale pluriannale del comune regolamenti comunali piani urbanistici generali attuativi piano triennale delle opere pubbliche piano urbano del traffico e piano parcheggi piano commerciale programmi di assistenza socio-economica in favore dei soggetti indigenti e dei loro familiari predisposti all'amministrazione comunale delibere quadro concernenti in materia delle gate consigli di circoscrizione modifiche concernenti il numero e le delimitazioni territoriali delle circoscrizioni i consigli di circoscrizione esprimono inoltre parere sugli argomenti indicati dai singoli regolamenti comunali e su ogni altra questione che il consiglio il sindaco la giunta municipale riterranno di dover sottopore all'esame degli stessi Roberta perdona se ti interrompo quanti articoli rimangono da leggere intanto finisco questo ah scusa pensavo fosse confuso in questo c'è da aggiungere questa parte intanto leggo l'inizio i pareri adeguatamente motivati sono espressi con atto deliberativo adottato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in caso di richiesta urgente il termine è ridotto a 5 giorni aggiungere le osservazioni espresse devono essere valutate dal consiglio comunale lo rileggo tutto i pareri adeguatamente motivati sono espressi con atto deliberativo adottato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in caso di richiesta urgente il termine è ridotto a 5 giorni le osservazioni espresse devono essere valutate dal consiglio comunale questo è quello che loro propongono di aggiungere poi comma 3 le proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del consiglio circoscrizionale devono contenere il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente di circoscrizione allora ora manca articolo 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 poi c'è insomma ancora è abbastanza lungo è molto corposo sì che facciamo presidente continuiamo ci interrompiamo cosa mi vuole sostituire qualcuno nella lettura ditemi voi perché sono in tutto 23 pagine rimangono no sono in tutto 23 ho letto le prime trecce mancano una decina di fatto ditemi voi sentiamo i colleghi che dicono io scusami se non ti do il cambio scusami se non ti do il cambio ma non 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 sono non posso leggere non sono nelle condizioni però ti sto seguendo ovviamente sentiamo anche i colleghi che dicono Gianluca Toni ah sì ok ho letto un messaggio di qua sulla chat non si apre il suo microfono magari puoi scrivere Toni va bene sì abbiamo capito sì ho sempre problemi con i mito sempre sempre a turno abbiamo sempre problemi allora c'è Toni che vuole rinviato il link della commissione aspetta provvedo in chat sì 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 già in chat c'è da ieri presidente presidente non ci sente ok non ci sente allora continuo a leggere e poi vediamo chi si inserisce ok? cioè se riescono a prendere la parola con i microfoni quindi funzioni propositive su tutti gli argomenti scusatevi devo fare notare che il Presidente Inzerillo non risponde forse ha problemi anche l'ultimo idem il randazzo randazzo risponde via messaggio allora io sono qui non si apre il microfono e non sa perché allora posso provare a chiamare Gianluca però per fare questa operazione stacco un attimo la connessione con voi perché non posso tenerla io vorrei continuare Gianluca sicuramente si rappresenta comunque vuoi riprovare tu? sì un attimo solo lo sto chiamando ah va bene va bene allora pensaci tu e comunque Tony è presente non riesce solo a entrare con il microfono in collegamento col microfono e io voglio sapere se subentrata la Presidente o la Consigliera Cancilla lo chiami lei segretario e siccome ti abbiamo chiamato e tu non rispondi va bene d'accordo grazie sta cambiando tablet quindi continuiamo visto che da notizie che è ancora qua ok perfetto allora è presente continuo nella lettura io avevo chiesto in chat che questi sono emendamenti o sono semplicemente delle osservazioni ma gli emendamenti non ho capito suggerimenti come dice eh segretario sono suggerimenti perché gli emendamenti non sono emendamenti ai consiglieri comunali loro non possono d'accordo d'accordo segretario scusate siccome sono le 10 e 45 tra i 15 minuti chiamiamo l'appello o dovremmo chiudere la seduta quindi il verbale è pronto il verbale di oggi chiamiamo l'appello che ha detto Gianluca scusami non ho capito noi abbiamo capigruppo quindi ah ok ok mi ero persa il capigruppo per cui ho detto non c'è consiglio ok quindi il segretario il verbale di oggi è pronto è pronto presidente come dispone verbale 33 del 19 febbraio tralascio tutta la parte iniziale vado soltanto inizio dalle presenti dalle presenze presenti Roberto Cancilla Caterina Orlando Carlo Di Pisa Antonio Randazza e Giovanni Zedillo presenti 5 su 5 essendo stato raggiunto il numero legale il presidente Giovanni Zedillo dichiara persa la saluta il presidente dà comunicazione che il giorno 23 corrente mese è stato invitato in audizione ora sì scusatemi e dei servizi socio assistenziali ho la funzione scusami Giovanni non non si riusciva ad aprire va bene siamo vittime della tecnologia e servizi assistenziali signor assessore Giuseppe Mattina dà disposizione di convocare scusate scusate c'è Carlo Di Pisa che mi chiama all'altra linea scusatemi Carlo scusate dimmi veloce perché siamo ancora in registrazione vabbè scusatemi avevo bisogno di alcune notizie da disposizione di convocare in audizione per giorno 24 corrente mese i vertici rap per avere notizie della programmazione dello spazzamento manuale e meccanico della città e dell'avvertenza sindacale che ha portato il lavoratore del rap a dichiarare lo stato d'agitazione programmare un sopralloro in presenza del signor vice sindaco presso il cantiere dello Zen il cantiere dello Zen scusatemi mi date conferma ma lo date dopo per il ripristino del decoro urbano Zen grazie consigliere del decoro urbano e per verificare l'abbattimento delle barriere architettonico e il miglior rivignoramento delle condizioni igienico-sanitarie il presidente invita la commissione a riprendere la proposta di liberazione avente progetto proposta di modifica dell'erroramento per il decentramento la commissione approva e la consigliera cancilla inizia a leggere i suggerimenti proposti dai presidenti e le circoscrizioni sulla modifica dell'erroramento che potrebbero essere trasformati in emendamenti allora dice il consigliere Carlo Di Pisa lascia la seduta il presidente invita il segretario a leggere il verbo che letto presidente se può iniziare l'approvazione approvato favorevole Orlando favorevole scusate si si presenta un po' attratti ma va bene allora mettiamo in votazione il verbale Orlando favorevole Randazzo favorevole di Pisa è assente di Pisa cancilla favorevole sottoscritto favorevole per il verbale approvato l'animità sono le ore 10 e 48 dichiaro chiusa la seduta arrivederci buona giornata buon fine settimana arrivederci ciao a tutti ciao a tutti Grazie.